Oggi andiamo alla scoperta di una famosa riserva naturale del Madagascar, dove possiamo osservare nel loro ambiente naturale enormi serpenti boa costrictor e altri tipi di reptili, naturalmente i caratteristici lemuri tipici del Madagascar. Osserveremo probabilmente il più piccolo camaleonte del mondo, una specie endemica che vive soltanto nel Madagascar e naturalmente un villaggio a dir poco da altri tempi. Per raggiungere il parco bisogna andare in un villaggio dal nome impronunciabile, ambatozzavavi, e da qui a bordo di una piroga bisogna pagaiare per quasi un'ora per raggiungere l'ingresso del parco. Sembra di ritornare indietro nel tempo, in un'epoca ancestrale al di fuori della modernità che noi tutti conosciamo. Quando abbiamo il fenomeno della bassa marea le piroghe si allontanano dalla spiaggia centinaia di metri, per cui bisogna camminare nel fango e raggiungere le imbarcazioni per poter proseguire il viaggio. Grazie. 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 Questo viaggio in piroga è di per sé un qualcosa di epico, di mitico, un contatto autentico con la natura, i suoi ritmi, la sua forza. Bene, tutto è pronto per iniziare la navigazione e pagaiare verso la meta l'ingresso del parco di Locobè. Seguiteci! Grazie a tutti! 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 non c'è una coppia Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.